A chiuso al quarto posto il Memorial Rampini a Gubbio, ultimo grande test prima dell'inizio del campionato, la Bartoccini Perugia neopromossa in A1 di fronte, tre avversari di categoria con le Perugine sconfitte in semifinale da Scandici e nella finalina da Firenze, mentre ad aggiudicarsi il trofeo è stata Conegliano, ma le sensazioni in vista della nuova grande avventura sono comunque positive, come spiega Capitan Angiloni. Siamo una squadra giovane con grosso potenziale, perché ricordiamoci che quando ci sono tanti giovani all'inizio è normale fare un po' di fatica, ma c'è un margine di crescita altissimo e noi su questo dovremo lavorare.